Si stima che il 95% di noi ha una deviazione del normale allineamento dentale. Più del 30% di noi si sottopone o gli viene consigliato un trattamento ortodontico. Nella metà di questi individui si consiglia anche l'estrazione dei premolari. Nella metà di loro viene anche consigliata l'estrazione dei denti del giudizio. Ma dobbiamo un attimino confrontare questa condizione con quella dell'uomo del paleolitico che nel 95% dei casi aveva dei denti perfettamente allineati, degli arcate dentali grandi con un volto congruo e ben sviluppato. Mostrava infatti quella che Weston Price definiva uniformità tribale. Infatti dovremmo avere una crescita del volto orizzontale ma ciò che invece si sta verificando è una crescita del volto in senso verticale. Weston Price e altri hanno esattamente descritto questo tipo di fenomeno. È come se la nostra faccia si stia sciogliendo. L'angolo mandibolare si sta aprendo sempre di più e la mandibola sta comprimendo quelle che sono le vie aeree. È stato visto che non è tanto cambiata la lunghezza mandibolare. Ciò che è cambiato drammaticamente è invece la zona dei cuscinetti dentali a livello dei denti del giudizio e degli incisivi. La lunghezza totale d'arcata si è ridotta sì, ma si è ridotta relativamente all'incirca di 14 mm. Ed è proprio qui che ci sono la maggior parte dei problemi ortodontici, cioè a livello incisivo e a livello dei denti del giudizio. Lo vediamo con gli affollamenti dentali e con i denti del giudizio che sono impattati. Ricerche mostrano che ogni cranio trovato 100 anni fa aveva i denti del giudizio perfettamente funzionanti. Se prendiamo una qualsiasi persona che vive nelle foreste pluviali dell'Africa oppure nell'Amazzonia, esse hanno uno spazio dietro i loro denti del giudizio. Se il mento è anche iposviluppato, la lingua finisce nelle vie aeree superiori, predisponendo anche a problematiche come le apnee ostruttive del sonno, delle quali ho parlato largamente in un altro video che ti invito a vedere. Attualmente osserviamo sempre di più dei soggetti che hanno un volto che non ha una forma corretta. E questo è chiaro che se un volto non ha una forma corretta non può nemmeno avere una funzione corretta. Il volto può avere diverse funzioni alterate, come per esempio la respirazione. Se la respirazione non è nasale ma è una respirazione orale, appunto per congestione nasale, ci saranno delle problematiche. Se ci sono delle problematiche a carico anche dell'organo dell'udito, come per esempio la formazione dei tappi di cerume per via del restringimento nel corso dell'evoluzione della tuba di ostacchio, quel volto non funzionerà correttamente. Possono esserci anche a carico di un volto problematiche per quanto riguarda l'affonazione, perché come abbiamo visto si riduce sempre di più lo spazio tridimensionale della lingua. Ci possono essere anche problematiche correlate con la masticazione, per esempio. E queste ovviamente sono dettate da denti affollati o disordini temporomandibolari. In più se un volto non funziona correttamente è perché ha tutta una sua morfologia alterata. Quindi forma e funzione sono strettamente correlate. Vediamo molto spesso quegli individui che hanno la faces adenoidea, quindi la cosiddetta long face syndrome. Ma perché accade questo? In realtà diciamo che gli studi sono ancora in atto perché questo è un tema molto 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 complicato. In linea di massima alcune scuole di pensiero diciamo che imputano tutte queste problematiche a cause genetiche, quindi a cause multifattoriali, se vogliamo. danno queste correnti di pensiero, queste scuole con questo tipo di corrente di pensiero, una scarsa importanza al problema della crescita verticale del volto. Perciò queste scuole di pensiero e queste correnti di pensiero fanno l'ortodolzia soltanto come un trattamento puramente estetico e temporaneo perché poi nella stragrande maggioranza dei casi non è stabile nel corso del tempo. Ma imputare tutto ciò a cause genetiche non è altro che una scusa moderna. C'è infatti un'altra corrente di pensiero che attribuisce le cause delle malocclusioni dentali e delle alterate crescite del volto a problematiche appunto di tipo ambientale. Quindi in questo tipo di scuole di pensiero c'è una maggiore attenzione a quello che è il problema facciale e quindi ci si concentra molto sul discorso del fatto che il volto magari stia crescendo in modo anomalo, quindi non stia avendo un pattern di crescita orizzontale corretto, ma che stia avendo appunto un pattern di crescita verticale e quindi scorretto. Come cause ambientali possiamo riconoscere per esempio dei traumi alla nascita o un deficit di vitamine in particolar modo della vitamina D e della vitamina A. Anche se su questo concetto del deficit vitaminico correlato con l'insorgenza delle malocclusioni dentali o di una crescita del volto alterata ci sono comunque sia ulteriori dibattiti. Altre cause ambientali che hanno chiaramente un peso più importante sono appunto il tono dei muscoli che è alterato, la postura della lingua che è alterata e poi anche quello che è un deficit di masticazione. Bene ragazzi, io con questo video ho terminato. Se ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Condividi il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Se hai delle domande puoi lasciarmele qui sotto nei commenti non appena mi sarà possibile io chiaramente ti risponderò.